ma è vero che personaggi del fumetto restano sempre uguali a se stessi la risposta è ovviamente no anche i personaggi dei fumetti cambiano nel tempo in questo video vediamo alcuni personaggi come si sono evoluti nel tempo alcuni secondo me sono migliorati altri sono decisamente peggiorati scrivetevi nei commenti quali secondo voi sono migliorati nel tempo e quali ahimè sono peggiorati naturalmente in questo video ne vediamo solo alcuni se il format vi dovesse piacere magari vi ne proporrò anche degli altri buona visione che quinta Ciao! Grazie a tutti! 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 Se questo video ti è piaciuto lasciami un like o un super grazie e abbonati alla soffitta di Pippo per avere accesso esclusivo a tutti i contenuti del canale. Noi ci vediamo alla prossima, sempre qui sulla soffitta di Pippo, ciao!